Audi A3 si evolve con il sistema ibrido plug-in di seconda generazione. L'estetica rimane fedele all'ultima versione di A3 Sportback, con il caratteristico design sportivo e tagliente. All'interno fanno da padrone i grandi display ripresi dai modelli di categoria superiore, come anche la sobria impostazione della plancia. Nel reparto tecnologico, il grande pregio della variante alla spina consiste nell'integrazione con la gestione da remoto nell'app MyAudi. Il nuovo sistema ibrido si distingue per sinergia tra elettrico e termico, che si tramuta in 204 CV. Le grandi novità di questo sistema sono nella gestione dell'energia elettrica. I consumi record e la frenata rigenerativa sono i punti chiave di nuova Audi A3 Sportback plug-in Audi. Al volante trovarsi su un'ibrida la spina significa silenziosità e tanta coppia. La spinta infatti si è assicurata e la guida è sempre divertente. Anche la frenata tallone da filo delle ibride è fluida e potente, rendendo impercettibile il passaggio tra la rigenerazione e i freni, a tutto vantaggio del piacere di guida. Il neo di avere una batteria da 13 kW è sicuramente il peso, più di 1600 kg, anche se posizionate alla base del telaio, in curva si sentono, rendendo le versioni termiche più adatte ad un uso vivace. E' nell'uso cittadino che A3 trova la sua migliore espressione, con consumi paragonabili ad un ciclo motore e tutti i vantaggi derivati dall'omologazione eplida. Audi A3 Sportback plug-in hybrid coniuga lo stile premium, la piacevolezza d'uso e consumi di risombri.